Adotta i pet, il cucciolo virtuale, e prenditi cura di lui sulla tua PSP. Basta un fischio e il tuo amichetto corre da te. Trasformalo nell'animaletto più bello di tutti. E divertiti a scoprire tutti i giochi che puoi fare con lui. Portalo sempre con te e fagli un mondo di coccole. Un sacco di giochi, tantissimo divertimento! PSP, tua da 129,99€. PSP, il tuo mondo nelle tue mani. PSP, il tuo mondo nelle tue mani.